buona giornata amici da massimo fughetti oggi giovedì 2 febbraio 2023 la rassegna stampa cominciamo insieme la giornata leggendo i giornali come ormai capita da diverso tempo ebbene cominciamo subito con l'almanacco del giorno per vedere che cosa celebra oggi la chiesa la proposta è quella della presentazione del signore al tempio oggi e poi è la candelora si festeggia dunque questo atto che per gli israeliti del tempo era una cosa d'obbligo in quanto tutti i primogeniti dovevano essere consacrati al signore e giuseppe e maria non derogarono da questa legge dopo 40 giorni presentarono appunto gesù al tempio e gli cominciarono appunto anche i miracoli le predizioni le previsioni eccetera di tutto quello che poi racconta il vangelo ogni primogenito doveva essere consacrato a dio per quanto riguarda la candelora che dire dell'inferno siamo fora beh mi sembra che ancora siamo pienamente dentro l'inverno e con questo dovremo fare i conti ancora per qualche giorno ancora almeno per un mese e passa ebbene diamo un'occhiata ai giornali per vedere le previsioni del tempo e vediamo che nella regione marche ancora c'è il sole c'è il sole dura il bel tempo bel tempo con sole splendente per l'intera giornata i venti saranno al mattino tesi e proveranno da sud ovest al pomeriggio moderati da nord nord ovest il mare poco mosso e temperature oscilleranno tra i 5 e i 12 gradi ebbene fa ancora freddo però insomma è inverno e così deve fare ed ora apriamo i giornali abbiamo qua il corriere adriatico vediamo l'apertura l'apertura è dedicata all'adriatic link vi ricordate cos'è l'adriatic link è un grande elettrodotto che la società terna si appresta a costruire partendo dal nostro territorio partendo esattamente dalla centrale elettrica di carrara un elettrodotto che verrà interrato finché non raggiungerà la costa a metauriglia e poi andrà sotto il mare andrà sotto il mare fino a raggiungere l'abruzzo dove riemergerà e sempre interrato raggiungerà la località di ceppegatti nella provincia di teramo adriatic link alvia l'autorizzazione ministeriale accelerata per anticipare l'attività si pensa che i lavori inizieranno nel 2024 e dovrebbero essere conclusi nel 2028 un miliardo è l'importo dell'investimento che farà terna per questo elettrodotto che dovrebbe potenziare appunto la trasmissione dell'energia elettrica dal nord a sud dell'italia un investimento in linea per 250 chilometri questa è la distanza che dovrà percorrere l'elettrodotto ebbene che dire il progetto di terna va avanti c'è stato un continuo confronto con la popolazione residente la prossima settimana ci dovrebbe essere un nuovo incontro per così confrontarsi sugli investimenti delle opere compensative che terna dovrebbe realizzare nel territorio si tratta in prevalenza di elettrodotti già esistenti che dovrebbero essere interrati secondo le proposte dell'amministrazione comunale e naturalmente verranno privilegiate le istanze degli abitanti di Carrara che dovrebbero che dovranno sopportare i maggiori disagi le fonti rinnovabili questo è un po la prospettiva del futuro con cui anche terna dovrà fare i conti in quanto tutte le iniziative private che si svolgeranno nel comprensorio dovranno poi essere collegate con la centrale di Carrara e quindi terna dovrà essere l'interlocutore privilegiato cambiamo argomento e parliamo di turismo parliamo di turismo perché l'amministrazione comunale ieri ha dichiarato che aumenterà la tassa di soggiorno in compenso ha predisposto una card con la quale renderà gratuiti diversi servizi nei confronti dei turisti vediamo questo articolo in particolare ieri c'è stata una conferenza stampa che è stata convocata dall'assessore al turismo etienne lucarelli nuovi servizi dunque per i turisti ne potranno beneficiare gratis grazie ad una card una carta illustrata ieri da lucarelli le tariffe restano comunque più basse rispetto alla media delle tariffe praticate nel comprensorio nelle città vicine vediamo qualche cifra si oscilla dagli 80 centesimi al giorno per bungalow e piazzole nei campeggi fino a due stelle e poi due euro e mezzo negli alberghi a quattro stelle il turista munito di card potrà visitare senza spese il museo civico il museo della flaminia potrà poi visitare l'area archeologica di sant'agostino dove sono previste aperture estive ce ne saranno durante tutti i fine settimana i giorni di festa ma il calendario sarà ben più ricco e sarà deciso insieme all'assessore alla cultura ha detto lucarelli e del pacchetto gratuito fanno inoltre parte le visite guidate più il trasporto pubblico nel caso che il turista alloggi a sud del fiume metauro nel caso si preferisse il taxi poi si usufruirebbe di una tariffa agevolata dunque se si preferisce l'autobus si va gratis la linea di ponte sasso marotta fano ma non marotta ponte sasso torrette fano e poi invece se si vuole il taxi c'è una tariffa convenzionata con l'amministrazione comunale dunque un'operazione interessante per quanto riguarda l'attività turistica per la prossima estate giriamo pagina e parliamo di cronaca spacciava vicino ai giochi dei bambini una mamma allarmata chiama la polizia è stato sorpreso un busher che spacciava droga nei giardini bracci quei giardini che si trovano tra la palestra venturini e l'istituto tecnico battisti in viale 12 settembre a fano eroina a pochi metri dagli scivoli questo è un giardino frequentato dai bambini anche dagli anziani è un giardino non molto ben messo dobbiamo dire però insomma è un oasi di verde all'interno della città sono state proprie le mamme dunque a segnalare agli agenti del commissariato un sospetto e continuo andirivieni di persone che aveva proprio l'epicentro in questi giardini lì i poliziotti hanno fatto un controllo antidroga che ha portato all'arresto di un giovane originario dell'albania sequestrate 14 bustine contenenti l'eroina prendere un'idea del valore commerciale di quanto è stato sequastrato si evidenzia che il prezzo di ognuna oscilla tra i 50 e i 60 euro quindi 14 bustine sono già una somma considerevole e durante la giornata di ieri si è svolto in tribunale a pesaro l'udienza per la convalida dell'arresto il giovane ha patteggiato otto mesi più una multa di 1000 euro e poi è tornato in libertà e beh questa è un po' l'andazzo della nostra giustizia rinnovato lo sportello della banca di credito cooperativo di fano a cucurano ed è stato anche evidenziato l'utile di bilancio conseguito nel 2022 quasi 6 milioni di euro una cifra considerevole visti i tempi difficili con cui operano anche gli istituti di credito oggi ci sarà inaugurato oggi pomeriggio alle ore 16 appunto a cucurano sarà inaugurato il lo sportello ed è un primo gradino nell'ambito di un progetto di complessivo rinnovamento di ampliamento dobbiamo dire della sede centrale di cucurano che è la sede dove è nata la banca di credito cooperativo e da dove poi dirige tutte le agenzie che sono state che costituiscono una rete nel territorio ebbene uno sportello sempre più in sintonia con le esigenze della gente dei clienti e vedremo oggi come questo nuovo servizio verrà presentato agli utenti l'apertura al pubblico dello sportello di cucurano è il primo step ha dichiarato il direttore generale giacomo falcioni di un complesso di ristrutturazione e riqualificazione che la banca sta portando a compimento nello stabile della sede centrale un progetto che dovrebbe essere ultimato a lavori esecutivi entro l'anno in corso quindi entro il 2023 lavoratori in nero e regole violate sanzioni da 15 mila euro per il mio trovati due dipendenti senza contratto l'attività della discoteca sospesa fino alla sua regolarizzazione ebbene c'è stato un controllo un controllo alla discoteca miu disco dinner di marotta salita la ribalta lo ricordiamo nel 2021 per una maxirissa tra gli avventori ebbene questo questo blitz delle forze dell'ordine ha messo in evidenza diverse deroghe alla legislazione vigente al mio sono intervenuti i carabinieri della compagnia di fano insieme a quelli del nucleo dell'ispettorato del lavoro della compagnia di pesaro l'ispezione si è svolta nel pomeriggio di domenica scorsa ebbene sono stati segnalati dicevo diverse diversi problemi una grande attenzione innanzitutto sono stati sorpresi dei ragazzi a fumare all'interno della discoteca e questo è espressamente vietato e poi ci sono state anche delle deroghe al contratto di lavoro in quanto sono stati trovati nel locale due lavoratori senza contratto di assunzione e per questo oltre alla multa ai gestori ai proprietari appunto della discoteca è stato disposto anche un provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale fino al ripristino delle prescrizioni di legge dunque la discoteca resterà chiusa finquanto non si metterà alla pari con le disposizioni che sono in vigore vediamo anche la pagina di senigallia affitto dell'abitazione provvisoria anticipato il contributo agli sfollati c'era il rischio che gli sfollati che non hanno potuto risiedere nelle loro abitazioni a causa dell'alluvione dovessero pagare l'affitto nelle strutture in cui ora abitano invece il comune subentra per quanto riguarda questa spesa e poi si rifarà quando arriveranno i contributi sono previsti 200 milioni dal governo affitto dell'abitazione provvisoria anticipato questa è una buona notizia il contributo degli sfollati vediamo qualche notizia di pesaro vediamo l'apertura dedicata appunto al capoluogo e vediamo come si parla di cittadelle dello sport ci sono due partieri a pesaro che stanno per essere così forniti di grandi impianti sportivi per villa san martino e torraccia un futuro da cittadelle sportive dal basket alla rotellistica nei due quartieri si concentrano i maggiori progetti e a fianco della piscina di via togliati si aprirà un nuovo parcheggio da 120 posti ebbene sono diversi progetti finanziati per quanto riguarda questo disegno e interesse ai due quartieri 6 milioni e mezzo fondi pnr per la realizzazione e la rigenerazione degli impianti sportivi questa è la fonte da cui si attraga da cui si prendono poi gli investimenti ci sono tre progetti del comune che vengono finanziati dal bando sport e inclusione un milione e mezzo per la palestra delle impianti di ciclo torrellistico a torraccia un milione per lo stadio da baseball nella zona cinque torri e 4 milioni per la cittadella del basket a villa san martino ebbè questa insomma la ripartizione delle somme a disposizione e questo è quanto realizzerà il comune di pesaro in questi due quartieri intanto il vecchio palace ha rischiato di restare anche senza luce pensate quanti problemi questo questa grande struttura che dovrebbe sta che sta per essere riconvertita anche per soprattutto per evidenze esigenze culturali ebbene che cosa è accaduto è accaduto che un problema dietro l'altro anche senza luce ma tralasciamo questo articolo vi invito comunque a leggerlo e qui c'è una vicissitudine che ha interessato un pesarese che purtroppo evidenzia come la burocrazia l'ottosità di certe situazioni crea di molti molti danni e disagi alle povere vittime una targa presa male è un indirizzo sbagliato fa sì che un pesarese che è completamente estraneo a questa vicenda debba pagare una grossa multa non ero io ma dovrò pagare la multa dice il titolo è un'odissea burocratica lunga quattro anni per un pesarese sanzionato ai fori imperiali a roma ma lui a roma non c'era mai stato ebbene una targa presa male sembra che invece di una y sia stata presa una x e questo insomma ha sbagliato l'indirizzo dove appunto notificare la multa ma addirittura anche l'indirizzo era sbagliato perché lui in quella casa dove la multa è stata indirizzata si era era andato via da diverso tempo da alcuni mesi e quindi quell'avviso di pagamento non l'aveva mai ricevuto per cui sono trascorsi e sono anche superati i mesi con cui poteva fare ricorso appunto a roma e la multa che dovrà pagare è piuttosto ingente all'inizio la multa era solo di 179 euro per dire solo poi un eufemismo poi con tutti i tempi che sono accumulati tutto quanto il resto insomma multe interesse eccetera è arrivata a 273 mila virgola 88 centesimi di euro insomma una vicenda che qualche volta fa arrabbiare veramente chi ne è vittima chi ne è interessato perché poi queste cose non si riescono mai a risolvere si si sbatte contro come se fosse un muro di gomma l'ata va allo scontro con la regione l'ata è l'autorità d'ambito che ha redatto il piano per la raccolta dei rifiuti che è stato bocciato dalla regione marche l'ata comunque reagisce e vuole fare ricorso al tar proposto ai sindaci il ricorso al tar l'ente presieduto dal presidente della provincia giuseppe paulini contesta le prescrizioni ricevute e la bocciatura del piano d'ambito questa mattina ci sarà una riunione prevista alle ore 12 in seconda convocazione appunto in provincia giuseppe paulini ha convocato i sindaci del territorio che sono chiamati a votare la proposta di ricorso al tar contro il provvedimento della non conformità del piano d'ambito alla pianificazione regionale emesso lo scorso 17 gennaio un provvedimento che ha soppreso un po tutti anche se nell'aria insomma si ventilava una reazione di questo genere da parte della regione marche e qui c'è abbiamo un articolo curioso ebbene un articolo da gossip possiamo dire un imprenditore cerca moglie una cosa normalissima ovviamente però finisce da uomini e donne ma chi è questo imprenditore che cerca moglie sembra che tutte le condizioni che lo caratterizzano dovrebbero attirare moltissime donne in realtà lui le cerca perché sia fino adesso si vede che non le ha trovate oppure è un escamotage per mettersi in evidenza non si sa comunque si tratta di un imprenditore si chiama claudio falguera a 67 anni è ricco e nobile ha molte proprietà ed è una persona molto estroversa non è nemmeno brutto dice il giornale e quindi ha tutte le caratteristiche per trovare moglie in realtà lui è è andato da uomini e donne la popolare trasmissione televisiva che ha un suo ambito di ascolto e lì insomma fa audience cerca donne e attira gli sguardi anche di signore avvenenti insomma che vedremo come andrà a finire insomma si tratta appunto di claudio falguera stupisce a 16 proprietà e vanta nobili origini coperti giacconi e senza tetto scout in strada con la croce rossa pandolfi con l'emergenza freddo è tornato il servizio l'impegno della gesci parliamo ora di cose serie parliamo di aiuti ai più fragili e ai senza detto in attesa dell'arrivo dello scout festival previsto per il 16 17 giugno prossimo per i cento anni dei giovani esploratori di pesaro le guide e i boi della gesci fanno una nuova esperienza contro la povertà contro le condizioni di povertà e quindi cercano di raccogliere il più possibile indumenti caldi per proteggere coloro che non hanno di che vestirsi convenientemente durante l'inverno ancora altre notizie per quanto riguarda il Corriere Adriatico la pagina di Urbino contributi per i nuovi medici ma la regione ci taglia fuori vitri e biancani contro la proposta di legge che favorisce il sud delle Marche l'occasione di questa protesta di questi due consiglieri regionali del Partito Democratico è il via libera da parte del Consiglio regionale senza i voti del centro-sinistra ovviamente alla proposta di legge per favorire l'insegnamento nei comuni colpiti dall'alluvione quindi nel sud della regione per le aree interne del cratere sismico di Ascoli fermo e macerata per quanto riguarda l'implementazione dell'organico in termini sanitari quindi ci saranno nuovi medici che andranno al sud delle Marche mentre il nord verrà al momento disatteso apriamo anche il resto del Carlino per quanto riguarda la pagina di Fano dove vediamo un'apertura diversa si apre con il raddoppio della tassa sul turismo raddoppia la tassa di soggiorno ma spunta la card con tanti servizi gratuiti così il Comune prevede di combattere l'evasione fiscale e incrementare il gettito di circa 150 mila euro l'incasso che produceva la tassa di soggiorno in precedenza era di 250 mila euro ora dovrebbe raggiungere i 400 mila euro e sono risorse queste che l'assessorato al turismo dovrebbe poi reinvestire nella promozione in tutto ciò che riguarda appunto la città e l'accoglienza turistica qua invece abbiamo un articolo che anticipa un po' quelle che sono le elezioni del 2024 siamo ormai a termine, ci avviamo diciamo al termine della tornata amministrativa e sorgono qualche così, qualche velleità per occupare il posto di primo cittadino per i prossimi 5 anni amministrative, partito il Totonomi, c'è chi punta addirittura sulla presidente della Carnevalesca Maria Flora Gian Marioli e sembra che la proposta sorga da Fratelli d'Italia la candidatura arriverebbe da Fratelli d'Italia, intitola il resto del Carlino ma la presidente della Carnevalesca smentisce, non ne so nulla, ha detto intanto a destra emerge anche il sindaco di Cartoceto Enrico Rossi e a sinistra Mascarin invoca le primarie vediamo qui queste fotografie che vengono pubblicate sono i candidati che potrebbero assurgere alla nomination per quanto riguarda il primo cittadino di Fano vediamo Maria Flora Gian Marioli che dice che non ne sappia nulla e quindi sembra strana questa candidatura Enrico Rossi, Enrico Rossi è sindaco di Cartoceto però abita a Fano e potrebbe anche lui concorrere appunto al primo cittadino ritorna alla ribalta Alberto Santorelli, Forza Italia, è stato il partito di aderenza quando era in consiglio comunale è stato sempre un po' indisparte ma comunque il suo interesse per la politica sembra che non sia diminuito Giuseppe De Leo, ex direttore generale del comune di Fano sempre nella sfera di Forza Italia socialista, insomma in quella zona lì, sempre di centro-destra è un candidato sempre che è aspirato a questa carica Gianluca Ilari invece è capogruppo della Lega in consiglio comunale Luca Serfilippi, altro esponente della Lega ora presente in regione come consigliere regionale Barbara Brunori Barbara Brunori è una nuova immagine una nuova immagine che si è fatta veramente apprezzare durante la sua attività di assessore ai lavori pubblici ed è una delle esponenti più attive in questo momento per quanto riguarda i progetti in cantiere Cristian Fanersi, vice sindaco di Fano, appartiene al Partito Democratico e assessore all'urbanistica Tommaso Mazzanti, capogruppo del Movimento 5 Stelle uno dei consiglieri, come del resto tutto il gruppo del Movimento 5 Stelle tre più impegnati nell'attività consigliare ed è uno dei gruppi sempre più informati, sempre più attenti alle delibere che vengono presentate questa un po' è la presentazione dei candidati ovviamente ognuno ha le sue chance, ognuno ha le sue probabilità e vedremo se la spunterà il centro-destra o la spunterà il centro-sinistra E' elettrodotto sottomarino il Ministero dà l'Ok anche il resto del Calino si occupa del grande investimento di Terna per quanto riguarda l'Adriatic Link procede l'Iter per l'infrastruttura che collegherà l'Abruzzo con le Marche e aumenterà la capacità di rete questa è la cosa più importante perché le imprese hanno bisogno di energia e sappiamo come l'energia in questo momento è sotto la lente di ingrandimento non solo dell'Italia ma anche dell'Europa un articolo che riguarda il fatto di cronaca e il blitz che le forze dell'ordine hanno compiuto nei giardini bracci a Fano dove è stato sorpreso uno spacciatore di droga un albanese che appunto ha patteggiato quegli otto mesi in tribunale ieri a Pesaro fumatori al chiuso e baristi in nero le multe al MIU anche il Carlino si occupa dell'indagine che hanno svolto i carabinieri della compagnia di Fano alla discoteca rispettate tutte le misure di sicurezza e il divieto di alcol ai minori di 18 anni dice il sommarietto ad Urbino si evidenzia invece una carenza di farmaci la situazione è sotto controllo antifiammatori e mucolitici scarseggiano però si possono trovare adeguati prodotti alternativi lo dichiara Elisabetta Pretelli che è direttrice della farmacia comunale di Urbino farmaci irreperibili questo è un problema quali sono quelli che si fa più fatica a trovare in Urbino? sicuramente i classici utilizzati contro i mali invernali come l'influenza che sono quelli più richiesti in questo periodo ne abbiamo parlato con la direttrice della farmacia comunale di Urbino gestita da Urbino Servizi Elisabetta Pretelli stiamo vivendo ha dichiarato quest'ultima una situazione un po' particolare alcuni farmaci risultano mancanti ad esempio gli antifiammatori come l'ibroprofene, i mucolitici come la tecile cilsteina così come alcuni antibiotici la causa sarebbe da ricondurre al fatto che le aziende farmaceutiche fanno fatica a reperire i principi attivi ed ora qualche notizia di Pesaro ormai siamo vicini alla conclusione per quanto riguarda il resto del Carlino si parla di scuola le iscrizioni volano gli indirizzi umanistici sono quelli che vengono più segnalati perseguiti dagli studenti e la denatalità svuota le prime elementari ci sono molti spazi vuoti i dati delle scelte fatte degli studenti in provincia il caso della Pirandello emblematico i remigini erano un tempo 250 ora sono appena 113 e beh non ci sono più bambini e anche le scuole languono strada Carloni lavori e rabbia io ho perso metà degli incassi lo dice il titolare del bar Muraglia che sbotta alla notizia che i tempi per la chiusura del cantiere si allungheranno avevano detto febbraio adesso marzo io subisco danni da quattro mesi e ho dipendenti da tutelare lo dichiara Alessandro Sgagli titolare del bar Muraglia e questo per il momento è tutto Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani alle ore 7 per la rassegna stampa del giorno grazie per l'ascolto a risentirci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti